Mancano poche ore all'apertura dei seggi per le elezioni europee e in 89 comuni della provincia di Como per le amministrative. Nel weekend saranno 511.672 i comaschi chiamati al voto per rinnovare il Parlamento europeo. Le urne saranno aperte dal pomeriggio della giornata di sabato, dalle 15 fino alle 23, e domenica dalle 7 alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede, sono 551 le sezioni nel comasco. In totale gli italiani dovranno eleggere 76 membri del Parlamento europeo. La penisola è divisa in 5 circoscrizioni. I comaschi voteranno per la circoscrizione elettorale dell'Italia nord-occidentale, che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La scheda per questa circoscrizione sarà di colore grigio e gli eurodeputati eletti saranno 20. Su ogni scheda sono raffigurati 12 simboli delle liste. Basterà varrare il simbolo della lista scelta e, in aggiunta, ogni elettore potrà esprimere fino a tre preferenze per i candidati di quella lista, rispettando l'equilibrio di genere, ossia votando, nel caso di indicazione di due o tre nomi, candidati di sesso diverso. In caso di mancato rispetto di questa regola, verrà considerata valida soltanto la prima preferenza espressa e le altre verranno annullate. Basterà scrivere vicino al simbolo della lista il cognome oppure il nome e cognome del candidato o dei candidati scelti. Quelli che otterranno il maggior numero di preferenze saranno eletti al Parlamento europeo, indipendentemente dalla loro posizione nella lista del partito. Per l'elezione dei membri a Bruxelles, le liste devono avere conseguito almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale. Nella due giorni di voto, in 89 paesi comaschi, si rinnoveranno anche sindaci e consigli comunali. Per 22 di questi la sfida è contro il quorum perché il candidato è soltanto uno. Per loro sarà sufficiente per essere eletti, che si rechia alle urne il 50% più uno degli aventi diritto. Sono più di 2.000 sull'Ario i candidati in Lizza per un posto nei consigli comunali e 177 gli aspiranti alla fascia tricolore. Cantù è il municipio più grande al voto in questa tornata. seguito da Mariano Comense, di contro i paesi più piccoli alle urne sono Varrezzo e Livo con circa 150 abitanti ciascuno. Al voto per la prima volta i residenti del neonato comune di Uggiate con Ronago, nato dalla fusione di Ronago e Uggiate-Trebano. Ai seggi bisogna recarsi muniti di scheda elettorale e documento di identità valido.